oggi abbiamo in studio i pinguini tattici nucleari benvenuti informazione ridotta ci abbiamo qua la voce il frontman riccardo zanotti elio biffi voce anche lui a volte a volte quando serve e alla fisi armonica anche alla tastiera principalmente sarebbe intanto benvenuti diciamo subito uno dei motivi principali per cui state qua è perché dobbiamo ricordare che i pinguini tattici nucleari quest'anno saranno tra i concorrenti di sanremo con un brano che si chiama ringo star e intanto raccontateci un po di questa di questa esperienza che vi aspetta siete emozionati avete paura beh sì siamo siamo abbastanza emozionati ma non abbiamo paura che sono due cose un po diverse io un pelino tensione non è paura su sia tensione nel senso che è un palco molto importante e giustamente si deve fare bella figura poi fai c'è quella cosa della diretta dei tempi tutti molto frenetici perché comunque uno spettacolo difficile da portare anche per lo stesso amadeus come vi state preparando abbiamo provato molto in questi ultimi mesi tutti insieme nella nostra sala prove e comunque stiamo facendo yoga stiamo facendo facciamo i bagni in piscina facciamo i bagni turchi per rilassarci tisane su tisane tantissime tu non tisane sul serio sul serio sì 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 lo yoga proprio non però non tutti però non tutti però buzzi ad esempio il nostro chitarrista io ho iniziato andare a correre che non avrei mai idee succede nella vita ancora i frutti non si vedono molto però ho iniziato andare a correre anche solo per stemperare un po la tensione perché comunque uno pensa che magari inizi poco prima del del festival ma in realtà va avanti sono tanti step tante cose che succedono sai ci sono tante cose che succedono prima di andare a sanremo poi diventa sanremo se la settimana il brano è stato pensato apposta per sanremo è un brano nato per quello il brano è nato come un brano a sé stante che però aveva un'orchestrazione un arrangiamento proprio che alla fine della produzione del brano è parso evidente fosse consona alle produzioni di sanremo cioè come si fa una canzone per sanremo aveva un quel non so che di sanremese no ci potete anticipare qualcosa sul brano il tema voi parlate spesso beh ragioniamo sul titolo se vuoi è quello su quello che a che proposito abbiamo scomodato ringo star si è comodato l'abbiamo evocato abbiamo evocato evocato è una perché perché ringo star perché lì è un'immagine che in realtà si avvicina molto a tante cose della nostra estetica a noi noi veniamo dalla provincia siamo gli ultimi arrivati sempre abbiamo questa idea forte in noi che anche essere secondari essere in secondo piano le seconde linee non sia un problema anzi sia una cosa molto bella è un po ringo star è un emblema di questo modo di vedere le cose nella vita e nella musica lui è sì uno dei beatles però non è quello che ci ricordiamo quando lo c quando citiamo i beatles per raccontarli a un ragazzino che non ha mai sentiti invece una figura fondamentale ha fatto delle cose bellissime cantava benissimo e ha rivoluzionato il modo di suonare la batteria che è una cosa che tutti i batteristi sanno ma fuori dal mondo dei batteristi non si sa è un uomo che ha inventato il modo di suonare la batteria per la musica moderna ecco in effetti c'è questo tema che torna spesso voi ne parlate spesso del fallimento della sconfitta dell'essere sfigati cronici avete detto no nelle vostre nelle vostre canzoni che avete detto appunto lo stavi dicendo tu legato anche a questa vostra origine di provincia perché voi lo ricordiamo venite comunque dalla provincia di bergamo no del basco e siete nati dalla ecco ma che cosa in che senso nascere in provincia determina poi questo essere sfigati cronici ma allora io citerei allora essere sfigati cronici sì ma secondo me questa sorta di sfiga porta poi alla fine risultati più grandi ma non nel nostro caso cioè voglio dire non che mi senta di dire che raggiungeremo chissà che cosa questo no però dico in passato abbiamo notato che gente come vasco rossi gente come max pezzali adesso non sto qui a citarne altri però voglio dire abbiamo capito hanno raggiunto dei risultati incredibili e voglio dire vasco viene da zocca per dire che è provincia della provincia della provincia un paesello proprio e il discorso è che ti aiuta secondo me venire dalla provincia in generale a vedere le cose in una maniera un po diversa cioè avere più attenzione al piccolo dettaglio alla pensilina dell'autobus che viene modernizzata dopo 80 anni che era uguale quasi decadente al bar che cambia gestione e queste piccole cose le note di più se stai in una cittadina più piccola un po più fuori un po più e quindi anche la se così vogliamo chiamarla poetica musicale a livello anche di testi soprattutto ne viene in qualche modo condizionata cioè scrivi in una maniera semplicemente diversa magari non dai così tanta attenzione all'universale ma ma più al particolare secondo me una cosa molto positiva nella nella musica in questo periodo storico soprattutto intanto mi permetto io visto che umilmente voi non lo avete detto insomma qualche risultato lo avete già raggiunto perché insomma l'ultimo album molto molto bene avete già registrato un sold out al Mediolanum Forum di Asago inizierete un tour ma insomma di questo parleremo alla fine quindi comunque insomma i vostri risultati li avete raggiunti ma tornando quindi al brano dove ritorno a questo tema della della sconfitta invece a livello di musica che tipo di brano è farete ballare l'ariston ci sarà modo di muoversi faremo ballare l'ariston perché è un brano che mischia diverse influenze c'è un po di funk c'è un po di pop c'è un po di rock direi ci sono queste tre una sorta di cerbero questa canzone e anche un ritornello forte come quelli che caratterizzano un po i vostri brani io non posso dire se c'è un ritornello forte provati al più possibile poi ti dico secondo me non lo so se se l'ariston ballerà però quello è l'intento si è detto che siete la quota indie di Sanremo di quest'anno come la vivete questa definizione noi sono noi suoniamo da un po di anni nonostante siamo giovani ed è dall'inizio che ci si accosta e ci si inserisce qualcuno ci dice sì qualcuno ci dice no siete indie non siete indie è strano perché è una fase è un momento movimento che c'è stato noi non ce ne siamo mai troppo preoccupati non è che ci siamo messi l'etichetta indie in testa ma che poi indie che cosa racchiude un po di tutto tutto quello che è nuovo sulla scena io poi mi soffermerei sulla parola quota a me proprio quota è una parola che non mi piace non so come mai perché mi ricorda quota che a sua volta mi ricorda zero al quota ok e quindi penso che sia per questo motivo proprio quasi etimologico che la parola quota mi dà mi dà un non lo so mi dà un po l'orticaria detto ciò è chiaro che che non disconosciamo il fatto che l'indie abbia significato tanto per noi perché per anni siamo stati senza etichetta discografica anche solo banalmente sony è arrivata nell'ultimo anno e prima abbiamo una storia nostra e siamo arrivati a riempire comunque anche locali senza l'aiuto di nessuno non avevamo né un ufficio quindi se avete un passato chiaro che è passato dai dipendenti c'è e anche nel gusto magari musicale perché certe piccole cose come ti dicevo prima il gusto per il particolare sono riscontrabili in tanti in tanti musicisti indie quindi c'è qualcosa che avete da dire sulle reazioni che ne so dei vostri fan per questa partecipazione a sanremo che cosa state registrando i nostri fan ci vogliono tantissimo bene e hanno imparato essere sorpresi dalla vita e nei nostri riguardi nel senso che negli ultimi anni abbiamo fatto tante cose che non si aspettavano e tutte le cose che non si aspettavano però poi alla fine l'anno digerite non abbiamo un pubblico di bacchettoni o di persone legate a un qualcosa sono in realtà siamo contenti nel nostro pubblico perché veramente molto aperto a suggestioni a cose gli abbiamo sempre offerto davvero tanta musica diversa e quindi secondo me sono tutti carichissimi e non vedono l'ora di sentirsi sapete chi sono i vostri concorrenti immagino di si avrete guardato nostri avversari e dobbiamo in qualche modo sabotare gabbare gabbani gabbare gabbani è uno di loro gabbani è una persona con cui siamo diventati molto amici negli ultimi due giorni quindi sabotare lui no dai però votiamo e li saboteremo allora iniziamo una domanda facile poi se c'è qualche concorrente che ammirate in modo particolare qualcuno che vedete come un maestro magari l'abbiamo già detto uno lui ci piace molto per altre vie anche le vibrazioni e morgan sono dei dinosauri giganti per la nostra esperienza di quando eravamo teenager e io ho ascoltato tantissimo il blu vertigo quando ero ragazzino sembra che gli stai dando un po dei vecchi però un po lo sono non perché siano anziani ma è una questione generazionale generazione diversa io quando ancora non capivo nulla loro già scintillava voi siete giovanissimi perché tu sei del 94 tutti e due siamo del 94 io penso che invece morgan mi abbia dimostrato di essere ampiamente molto più giovane di me questo è vero quindi devo dire che mi sento io purtroppo un dinosauro però che cosa che cosa c'è qualche aneddoto particolare che vuoi raccontare no preferirei non raccontare sono robe vissute tra di noi sai c'è si crea quell'ambiente un pochettino quasi come di di gita scolastica quasi con tutti gli altri artisti ed è bello perché ognuno ha un carattere diverso che chiaramente viene fuori perché era la verità è che è che c'è la persona prima ancora del musicista dell'artista via dicendo e questa premessa mi rende ancora più difficile farvi rispondere alle domande successive che sono se invece c'è qualcuno con cui non dire due due tereste mai per esempio tra i concorrenti qualcuno con cui non duetteremmo mai ma allora io tra i concorrenti è proprio preciso vuole mettere i bastoni per seminare zizzano davanti dai mettiamo un po di pepe così allora io ti dico secondo me quando verranno in questa stanza tutti gli altri risponderanno noi e hanno ragione siamo noi concorrenti con cui non vorremmo dottare se devo vabbè allora facciamo siamo imprevedibili allora facciamo gioco il famoso gioco della torre non so se lo conosce quello che qualcuno cade esatto quindi voi dovete semplicemente scegliere in un binomio quello che preferite insomma avanti bene dai siamo in due e se li dividiamo chi buttate giù dalla torre allora la prima aspetta quindi devo dirti tra i due chi chi butti giù dalla torre poteva addirittura porcela in un modo più gentile chi vuoi tenere con te no chi butti giù iniziamo già con due che avete citato io però vado sincero ma siamo in due e le vibrazioni a io per quanto mi riguarda sono dai sì io ti dico che butto le vibrazioni se devo d'accordo accordiamoci anastasio rancore acqua ci dividiamo secondo qua ci dividiamo assolutamente anche se sono sono due ragazzi che stimiamo tantissimo in modalità diverse io forse butto io forse butto rancore io invece butto anastasio ok perfetto masini o irene grandi io avuto massimo anch'io achille lauro pelù è difficile questa facciamo piero io perché secondo me che le lauree ci sorprenderà ancora una volta e sarà ancora wow chissà che non sarete voi invece la sorpresa di sanremo insomma gli ultimi anni ci hanno svelato vabbè comunque bene ma continuiamo gioco possiamo dirtelo noi giudicherai rita pavone o rulla cebrel potete anche non rispondiamo no va bene siamo arrivati al tour ok che voglio questa domanda ultima però me la segno la ricordo allora abbiamo detto che il tour se non sbaglio parte il 27 febbraio si sbaglio ok da pordenone poi assago padova firenze a roma il 6 marzo al palazzetto dello sport l'ex pala lottomatica che molti qua a roma ricordano così sicuramente poi bologna montichiari torino e di nuova assago che è la seconda data che avete aggiunto dopo il il sold out ragazzi grazie per essere stati con noi è stato un piacere e come si dice si dice merda in realtà si può dire si può dire in bocca al lupo puoi dire quello che vuoi e ti ringraziamo grazie davvero e non buttate giù dalla torre mai